Assessore Peroni, credo che oggi si possa dire che abbiamo portato a casa 54 milioni di euro. Sì, la somma è questa ed è un risultato di grandissima importanza, perché questa somma significa sostanzialmente neutralizzare dal punto di vista delle entrate l'impatto del Decreto Legge 66 sulle nostre casse. Un risultato di grandissima rilevanza che a questo punto lascia invece liberi gli effetti positivi di questo Decreto Legge, che ricordiamolo non è la solita manovra di tagli e basta, questa manovra a regime comporterà ben 200 milioni in più nelle tasche dei nostri cittadini dal punto di vista dell'IRPEF e 41 milioni di sollievo delle nostre imprese dal punto di vista degli oneri IRAP. Oggi abbiamo ottenuto un risultato estremamente importante, abbiamo lavorato sul Decreto Spending Review ottenendo dei risultati tangibili per il nostro territorio ed è estremamente importante perché è il frutto di questa collaborazione che abbiamo instaurato con il Governo, una massima attenzione che ci porta ad avere già nuovamente un altro appuntamento la prossima settimana proprio sul Tremonti Tondo.